Anche Forza Italia, mi pare di capire, non condivida questa data del 30 settembre come data per il Consiglio Comunale in cui si discuterà dell'accordo stadio. Si tratta di una proposta da parte della maggioranza provocatoria e grave, perché in una questione nella quale non c'è stato fornito mai nessun documento, nonostante tutte le interrogazioni, le richieste che abbiamo fatto, anche le richieste di accesso agli atti formali, nonostante si leggano solo cose sui giornali, noi dovremmo in dieci giorni, ancora non avendo a disposizione la documentazione, discutere di una questione che qualcuno della maggioranza ha definito addirittura epocale. È comunque di una situazione molto molto delicata, quindi lo stadio merita un approfondimento, la questione stadio è un approfondimento, che merita uno studio delle carte che non possiamo avere. Quindi quello che, al di là dello sdegno che continuiamo a provare, questo modo di trattare l'opposizione ai cittadini, che non devono conoscere, non devono sapere, devono solo vedersi gli atti approvati. Ebbene, alla luce di questo, quindi non approviamo ovviamente questa fissazione, peraltro il giorno che c'è da approvare anche il bilancio consolidato, quindi o si ritiene che il bilancio consolidato sia una passeggiata, una fesseria, oppure come si fanno a discutere due argomenti così importanti nello stesso giorno. Quindi si chiede un consiglio straordinario, solo e esclusivamente per lo stadio, da fissare quando avremo tutte le carte a disposizione in modo formale, cosa che oggi non è possibile. Non si può continuare così dieci giorni per una questione che sono cinque anni, che si porta avanti e che mette in ballo somme importantissime che l'amministrazione deve pagare. No, non si può stare così. I cittadini meritano altro, al di là del fatto che è una questione che interessa ovviamente agli sportivi e interessa anche a me, perché mi fa piacere che il Teramo giochi allo stadio Buonoris, ma qui stiamo parlando di una questione che investe il futuro di un bene comunale importantissimo che è di tutti.